Upas, spoiler al, 17, 2, Silvia prova a rilanciare il vulcano, Manuela soffre. Continuano ad andare in onda su Rai 3 le puntate di Un posto al sole. Le nuove puntate che verranno trasmesse dal 13 al 17 febbraio. Rivelano che Silvia vivrà momenti di profonda crisi a causa di tutti i problemi al vulcano. La donna inoltre, si sentirà confusa tra l'attrazione verso Michele e i sensi di colpa verso Giancarlo. Marina e Roberto invece, proseguiranno con i preparativi del matrimonio. Purtroppo però, Marina verrà coinvolta in un incidente e questo danneggerà la sua serenità, trascinandola in un senso di forte inquietudine. Clara non rispetterà il divieto posto da Alberto riguardo a recarsi nel suo quartiere, la donna si metterà così nei guai. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia si impegnerà per rilanciare il vulcano. Purtroppo però, qualcosa andrà storto e un cattiva notizia getterà Silvia nuovamente nello sconforto. Silvia inoltre, si troverà a fare i conti con i suoi forti sentimenti verso Michele e i sensi di colpa nei confronti di Giancarlo. Cerruti deciderà di troncare la sua relazione appena nata, ma lo farà a malincuore. La decisione di Nico di prendere le distanze da Manuela, farà soffrire e non poco quest'ultima. Inoltre, a peggiorare la situazione di Manuela ci sarà l'intromissione di Michaela. Per mettere fine a tutte le discussioni con la sorella, Michaela deciderà di studiare un piano per far sì che Manuela si scordi di Nico. Viola e Raffaele dovranno presentarsi come testimoni al processo Valsano. L'udienza avrà un risvolto totalmente inaspettato. Viola sarà molto scossa dopo l'interrogatorio e temerà che le sue parole possano in qualche modo favorire Valsano. Tra Rossella e Riccardo la situazione continuerà ad essere tesa. Grazie ad Ornella. Rossella capirà che il carattere di Riccardo non è di certo semplice. Nonostante le discussioni, Riccardo riuscirà a farsi perdonare. Alberto aveva imposto a Clara il divieto di recarsi nel suo quartiere di origine per salvaguardare la donna da eventuali pericoli. A causa di un imprevisto però, Clara sarà costretta a violare il divieto di Alberto. L'avvocato inizierà ad essere agitato per l'arrivo di Clara nel suo quartiere. Così come da lui ipotizzato. Non mancheranno i problemi. In particolare, arriverà uno scontro con Edoardo Sabiese. Alberto si ritroverà ad intervenire in favore di Clara. L'avvocato vorrà scoprire cosa nasconde Edoardo. I preparativi di Marina per le nozze verranno interrotti bruscamente a causa di un incidente che getterà la donna nello sconforto. Aimei, 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 n-au avut hava. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu să sta. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns pot să mă duci tot mai sus. Mai sus, tot mai, tot mai sus, tot mai, mai sus. Si poate-ti dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu-mi spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân. Pe ce fac și ce spun știi? Nimic nu mai e la fel. Cupilăria s-a maturizat sever.